Eros Ramazzotti insieme a sua figlia Aurora cenano insieme e si divertono e mangiano cioccolatini Fai una cosa, ne fai tante perché la comunicazione vuol dire poter comunicare tramite tante canali Sì, tanti strumenti Come faccio io a parlare con te e con lui che mi riprende? Vuoi che cristallizzare il strumento A tu Aurora non riesce a parlare perché c'è papà Eros che la riprende E dice come faccio a parlare se mi riprende? Eros Ramazzotti insieme a sua figlia